buongiorno a tutti oggi siamo a villa spineda gasparini loredan località venegazzù di volpago del montello buongiorno a tutti oggi siamo a venegazzù di volpago del montello provincia di treviso e siamo venuti a vedere questa villa che purtroppo non si può vedere è inaccessibile completamente recintata e probabilmente anche curata evidentemente avevo letto che era semi abbandonata però così non è è del 1752 e purtroppo ci è andata male